Buongiorno e benvenuti a tutti a una nuova puntata di medicina top, la medicina spiegata con parole semplici dagli esperti più famosi. Sono Marco Klinger e gli ospiti di oggi saranno il professor Bocciardi con il quale parleremo di prostata, il professor Vajenti con il quale parleremo di dolore della mano e Fulvio Collovati, molto più famoso di tutti noi, campione del mondo dell'82 con il quale parleremo della bellezza dello sport di squadra. Il primo ospite oggi è il professor Aldo Bocciardi con il quale parleremo di prostata. Servizio. La prostata è una ghiandola dell'apparato genitale maschile che ha il compito di produrre e immagazzinare il liquido seminale. Si trova sotto la vescica e davanti al retto dal quale dista pochi millimetri. Il tumore della prostata è il cancro più diffuso nella popolazione maschile in Italia e rappresenta il 18,5% di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo. Nonostante l'incidenza elevata, il rischio che la malattia abbia un esito in fausto è basso, soprattutto se si interviene in tempo. Ancora, la prognosi è sempre più incoraggiante. Confrontando i dati del 2020 con quelli del 2015, la riduzione del tasso di mortalità è del 15,6%. Uno dei principali fattori di rischio è l'età. Le possibilità di ammalarsi sono scarse prima dei 40 anni, ma aumentano notevolmente dopo i 50 anni e ancora di più dopo. Circa due tumori su tre sono diagnosticati in persone con più di 65 anni. Un altro fattore da non trascurare è la familiarità, come in molti tipi di tumore. Il rischio di ammalarsi è pari al doppio per chi ha un parente consanguineo, come il papà o un fratello, con la stessa patologia. Aldo Bocciardi è direttore del reparto di urologia dell'ospedale Niguarda Cagranda di Milano e sicuramente uno dei più famosi urologi italiani. Ciao Aldo, benvenuto a Medicina Top. Ciao Marco, grazie dell'invito. Sono felice di averti con me come a scuola, come ai tempi della scuola. Qualche anno fa. Qualche anno fa. Aldo, parliamo di prostata e soprattutto parliamo di prostata e farei un passo indietro con le immagini e parlerei di robot. Che senso ha Aldo l'impiego del robot nella chirurgia della prostata e ha dato veramente qualcosa di nuovo? Il robot ha dato qualcosa di nuovo per tutte le chirurgie ma in particolare per la chirurgia urologica. Il robot non è il futuro, il robot è il presente attualmente e ha dato dei vantaggi in termini di benessere per i pazienti che sono indiscutibili e irrinunciabili. Quindi praticamente Aldo, scusa, ma per il nostro pubblico tu hai questa cosa qui ti evita di tagliare la pancia, tanto per essere chiari. È una laparoscopia sostanzialmente, una laparoscopia che ha dei grossi vantaggi. Intanto un ingrandimento di 12 volte, quindi più grande vedi meglio hai. C'è una demoltiplicazione degli strumenti che riduce il tremore essenziale del chirurgo eccetera eccetera e in termini di salute ha ridotto nel nostro settore drammaticamente i ricoveri, la lunghezza del ricovero, ma soprattutto in particolare per la prostata sui risultati funzionali dell'intervento per il carcinoma prostatico. È stata sostanzialmente una rivoluzione perché siamo passati da otto giorni e mezzo di media di ricovero a due giorni. Una bella differenza devo dire. Quindi un vantaggio sostanziale per il paziente che è molto meno traumatizzato e si riprende prima. Per anche la nostra povera sanità che comunque è una sanità che in qualche modo investe prima ma risparmia dopo. Assolutamente, perché il costo totale dell'intervento, la macchina costa cara, va ammortizzata, però dà dei grossissimi vantaggi. Aldo, ma anche in termini proprio di recupero i vantaggi? Assolutamente, perché siamo passati in casi specifici, voglio dire, parliamo del cancro della prostata abbiamo un arco di età abbastanza lungo, ma diciamo che generalmente per i pazienti di 65 anni, tanto per prendere un periodo intermedio, la quota di continenza a una settimana dell'intervento è approssimativamente intorno al 98%, siamo passati da un 30% a un 98%. C'è una bella differenza, voglio dire. C'è una differenza enorme che dal punto di vista economico per la società ha un vantaggio in costi per presidi per la continenza, presidi per le elezioni. Quindi Aldo, rivolgendoti ai nostri ospiti maschi che abbiamo a casa, in qualche modo è una cosa che ti può stare un po' più tranquillo, come dire, non è un evento luttuoso alla fine. Molto più tranquillo. L'intervento alla prostata come era vissuto anni fa. Molto più tranquillo, intanto non è un tumore particolarmente aggressivo, mediamente parlando. La mortalità è scesa notevolmente, ma soprattutto è migliorata drammaticamente la qualità di vita. In quella fotografia lì Aldo, ci fai vedere, ci indichi quello lì l'operatore, sei tu quello lì a sinistra. Quello a sinistra è il chirurgo, che ha una console, come i joystick, ci sono quattro pedali, joystick, quattro movimenti, non è una cosa complessa perché è molto intuitivo nella sua utilizzo. Quello in mezzo con le quattro braccia è la parte operativa e quello tutto a destra è il cervello del robot. in modo particolare servono solo due chirurghi al banco, invece dei tre o quattro che si usavano una volta e direi che ha proprio rivoluzionato. Aldo, mi viene una chirurgia da chirurgo, facendo chirurgo io come te, ma anche questa è una chirurgia chiusa, semi-endoscopica, che può nei momenti più difficili e più delicati evolvere poi in una chirurgia aperta, è difficile che succeda. Rarissimamente, tieni conto che noi facciamo i tumori del rene con i trombi in benacava, per cui insomma chirurgia ad alto rischio, ci vuole l'esperienza, l'esperienza che ci viene, quelli della nostra generazione, dalla chirurgia a cielo aperto, ma anche i giovani riescono a risolvere tutto per via robotica. Aldo, 60enne come noi, in termini di qualità di vita, cosa può aspettarsi da un intervento di questo genere? La chiave di lettura va vista nella diagnosi precoce, sulla prevenzione c'è poco da dire, un po' in tutte le malattie urologiche, in particolare sulla prostata, è una malattia, il cancro della prostata è assolutamente asintomatica, per cui è fondamentale che si faccia il PSA, l'esame del sangue banale, tutti gli anni. Quindi lo consigliamo a tutti i nostri amici a casa? Assolutamente, perché questo ci dà la possibilità di... E che valore deve avere il PSA, al dottor? Dico perché sono abbastanza attenta a queste cose, come tutti siamo impauriti. Sì, ma il problema, il valore nasce dal fatto che va fatto tutti gli anni, per cui non è tanto il valore assoluto, perché ognuno può avere un suo PSA più o meno basso o alto, il problema è che se l'andamento grafico è piatto, quindi se la velocità di crescita è zero, qualunque sia il valore in assoluto, la preoccupazione è zero. Questo l'hai spiegato bene, penso che sia importante per i nostri amici, per i nostri... Poi se c'è una crescita del PSA costante, si fa un esame specifico, che è una risonanza magnetica particolare, che è il secondo campanello d'allarme, al quale poi si procede con una biopsia mirata, questo vantaggio che è quella che determina alla fine quale sarà il tuo atteggiamento chirurgico, o radioterapico, questo forse ne parliamo un'altra volta, perché come sempre questa cosa è dibattuta, però in questo momento parliamo di interventi chirurgici. Si è dibattuta, ma anche lì è cambiato un po', siccome l'età media della diagnosi è scesa da 75 a meno di 65 anni, e quindi... Questo favorisce la chirurgia di sicuro, certo. Sì, senza dubbio. Ascolta Aldo, e proprio tornando sempre ai sessantenni, come può essere la qualità della vita di un sessantenne dopo l'intervento di questo genere? Può essere una qualità uguale, identica, oppure di prepararti a delle cose... Per un sessantenne la qualità di vita è, alcune volte devo dire, meglio, perché togliendo la prostata si tolgono un po' quei disturbi che oltre i sessantenne abbiano. E appunto, ci spieghi quell'immagine che vediamo adesso, Aldo, dov'è la prostata? Allora, la prostata è quella cerchiata di rosso con la P di prostata, retto è a destra e il volume è poco più di una mandorla, praticamente. Ognuno ha il suo, però siamo intorno al massimo mandarino, siamo a livelli... Ripeto, che è fondamentale, il carcinoma prostatico non dà disturbi, se ci sono i disturbi è l'ipertrofia prostatica che chiude il passaggio e la qualità di vita, come dicevamo, per un sessantenne è assolutamente ottimale, per esempio è un paziente che è andato dopo sette giorni dall'intervento al matrimonio della figlia, quindi questa era una cosa impensabile vent'anni fa, quindi ha abbiato moltissimo. In termini di attività sportiva, Aldo, uno può riprendere anche le sue attività sportive con un po' di calma, magari? Con un po' di calma, nel senso che come tutte le operoscopie, non avendo decisioni muscolari, può riprendere quando vuole, è chiaro che qui l'unica limitazione è l'uso della bicicletta per almeno sei mesi, perché se lì non appoggia proprio lì dove c'è la P, quindi dove noi lavoriamo e dove si riconnette la vescica all'uretra. Quindi per spiegare ancora dal nostro disegno ai nostri amici a casa, quella lì che è la prostata, a destra c'è il retto, Aldo... Sì, e a sinistra c'è la vescica, e qui c'è una rappresentazione di due modi di affrontare il problema chirurgicamente. La riga blu indica il tragitto che fa la tecnica tradizionale, che però vedete a sinistra della riga blu c'è l'osso, la sinfisio pubica, per cui per togliere la prostata bisogna spostare tutto verso l'alto e spostare la vescica verso l'addome. La linea rossa invece rappresenta quello che io ho messo... Il tragitto robotico. Sì, il tragitto robotico che è permesso proprio per il robot, perché è uno spettacolo viaggiare con la vista all'interno dell'addome delle persone. La linea rossa rappresenta l'innovazione che ho messo sui trattamenti chirurgici, che ha il vantaggio di non modificare la posizione della vescica. Noi sappiamo anche che l'ospedale di Niguarda, con la presenza di personaggi come te, ha comunque avuto un grande rilancio in questi ultimi anni e queste prospettive di chirurgia nuova sono veramente allettanti per tutti, in particolare per noi che siamo anche gli utenti, non solamente i chirurghi in questo tipo di specialità. Aldo, ma di futuro cosa può succedere? Se uno ti parlassi di futuro nella terapia della prostata cosa può succedere? Ancora meglio, diagnosi ancora più precoce di base. Esattamente, perché il problema è la diagnosi più precoce possibile, ci sarà sicuramente un miglioramento della diagnosi istologica e spero in futuro la possibilità di avere, di fare delle terapie focali, quindi di localizzare esattamente il tumore all'interno della prostata. Per il momento questo non è altro. E per rispondere Aldo con una parola sola, che serve a tutti quanti, quelli che sono a casa e anche a noi, a che età cominciare a fare il PSA? 45 anni. 45 anni. Io adesso sto operando… Cioè prima è raro che esista un problema di… È raro, rarissimo, però ci serve lo storico. Lo storico è fondamentale perché appena inizia un rialzo di questo valore si va a fare delle indagini più significative. Lo storico del PSA è l'arma migliore che abbiamo a disposizione. Sei stato bravissimo Aldo, grazie veramente, grazie ad Aldo Bocciardi. La tua presenza è stata strautile e gli argomenti in campo orologico sono tanti e tanti interessanti per il nostro pubblico e quindi ti avremo certamente ospite qualche altra volta e poi è un piacere stare io e te insieme. Grazie mille Marco dell'invito, ci vediamo domani a scuola. Esatto. Allora ringraziamo il professor Bocciardi, il prossimo ospite è il professor Luca Vaglienti che è il professor ordinario di chirurgia plastica a Milano con il quale parleremo di mano e in particolare di sindrome dolorose della mano. Via servizio. 27 ossa più 30 muscoli, innumerevoli legamenti e ben 20.000 recettori tattili. Sono i numeri che definiscono ogni singola mano, un organo fondamentale innanzitutto perché più di ogni altro permette di entrare in contatto con il mondo che ci circonda. nella vita quotidiana moderna si calcola che venga usato solo il 30% della possibilità di movimento delle mani, una possibilità spesso limitata dal dolore. L'artrosi, il tunnel carpale e la tenosinovita estenosante, meglio nota come dito a scatto, sono le cause più frequenti del dolore alla mano, un sintomo che può avere un impatto notevole sulla qualità della vita. Nella grande maggioranza dei casi il dolore appare dopo i 50 anni, anche se attività che comportano movimenti ripetitivi e traumi possono anticipare notevolmente la comparsa dei sintomi. Nel caso dell'artrosi, a fare male sono proprio le articolazioni delle dita che appaiono rosse, gonfie e rigide. Quando il problema è il tunnel carpale, invece, il sintomo principale è il formicolio alle dita, unito alla perdita di forza. Per il ditto a scatto, la manifestazione è ancora più evidente e consiste nell'impossibilità di estendere completamente la parte. Non solo la mano è un organo raffinatissimo, ma è anche il responsabile di buona parte del nostro successo evolutivo. Il pollice opponibile, che condividiamo solo con alcuni primati, dà alla nostra specie la capacità chiamata presa di precisione, fondamentale nell'esecuzione dei compiti più complessi. Luca Vaglienti è professore di chirurgia plastica dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità complessa di chirurgia plastica dell'istituto ortopedico Galeazzi. Ciao Luca, benvenuto a Medicina Top. Ciao Marco. Sono felice di averti qua con me. Grazie dell'invito. Luca, le sindrome dolorose della mano sono sindrome che creano veramente fastidi e difficoltà per i pazienti. Ma è vero che sono così in crescita? Sì, sono patologie molto diffuse anche perché con i nuovi sistemi di accesso diagnostico queste sindrome vengono conosciute sempre meglio. Un tempo erano generalmente definite artrosi. Diciamo che nel concetto di artrosi... Cioè quando io venivo negli anni cinquanta a far vedere la mano, faccio vedere un nome e diceva che era un po' di artrosi... Era un po' di artrosi e i pazienti diciamo così erano sottoposti a anni e anni di dolore, magari crescente, senza che venisse fatta una diagnosi certa e soprattutto che venissero, diciamo, adottati di determinati tipi di terapia. Adesso Luca, se io mi trovo improvvisamente a avere male alla mano, io per esempio la male alla mano di notte, ma penso che sia un problema che dipenda dalla cervicale, dall'atteggiamento mio del corso della giornata, dalla sala operatoria, la palestra, la ginnastica... Ma in generale uno che ha dei nostri amici a casa, dolore a una mano, primo deve impensierirsi, secondo, a parte impensierirsi, quali sono i controlli che deve fare per cercare di capire perché c'è questo male alla mano? Allora, innanzitutto, il paziente, diciamo, può dare un grosso aiuto allo specialista se focalizza il tipo di disturbo che ha, se è un dolore vero, se sono dei formicoli, se è un dolore costante, se è un dolore trafittivo, se è un dolore come un peso, ecco, in modo che possa spiegare al meglio nel momento in cui accede alla visita di uno specialista in chirurgia alla mano, sia in grado di spiegare esattamente che tipo di sintomatologia ha. Ma la situazione più banana, Luca, per cui il paziente viene da te dicendo ti ho male alla mano, cosa ti racconta? Ma il paziente che viene da te dice ho male alla mano, sia di notte che di giorno, ho dei formicoli, non riesco a piegare bene il dito perché sento uno scatto, oppure mi cadono gli oggetti dalla mano e quando cerco di stringere un oggetto come anche una semplice bottiglia, il paziente ha dolore e a volte, insomma, diciamo la presa è assolutamente instabile. Questi sono i quadri tutto sommato più frequenti, poi ci sono quadri più specifici che fanno parte di malattie più particolari, però direi che nella grande maggioranza dei casi si tratta di sintomatologia di questo tipo, quindi da un lato di tipo nervoso, come il tunnel carpale ad esempio, dall'altro di tipo tendinitico, come le dita a scatto e le tendiniti in genere. Però, Luca, tornando all'artrosi, l'artrosi si parla di numeri di milioni. L'artrosi si parla di numeri di milioni, che peraltro è l'artrosi di tutte le nostre articolazioni nel corso di una vita, quella componente cartilaginea che evita che l'osso entra in contatto con l'altro capo e quindi ci sia uno sfregamento, che si chiama cartilagine, si erode. Quindi sostanzialmente le artrosi vengono soprattutto in quelle parti del corpo e in particolare della mano dove l'articolazione è sottoposta. Dove sono molto sollecitate. Per esempio le mie mani da giocatore di basket, ex giocatore di basket e di chirurgo, vedi il mignolo piegato e vedi il dito col quale utilizzo per operare di più che grosso due volte gli altri, sicuramente dipendono dalla mia storia. Sicuramente dalla storia. O le mille ditte insaccate che alla fine hanno avuto un danno. Esattamente. Quindi sono le distorsioni subentranti che poi subito creano solo gonfiore ma sono piccoli traumi o grandi traumi all'articolazione che nel tempo poi possono evolvere verso una forma artrosica. Una cosa Luca di cui sono accorrenti i nostri amici a casa che ci ascoltano e che ci guardano è il tunnel carpale perché più o meno tutti in famiglia hanno avuto uno che sia stato sottoposto all'intervento per il tunnel carpale qualche volta anche più di uno. Ma cos'è se ce lo spieghi esattamente Luca ed è per forza essere sempre operato oppure c'è qualche altro rimedio? La sindrome del tunnel carpale è una sindrome che può venire per varie cause però non è solo una causa. Innanzitutto è molto frequente nelle donne perché spesso è conseguenza della gravidanza. Durante la gravidanza c'è una ritenzione idrica molto molto importante come è noto e nel momento in cui questa componente idrica tutti questi liquidi accumulati nel corpo si riassorbono nei punti dove ci sono delle strettoie anatomiche come il polso in particolare si creano delle specie di fibrosi per cui il canale se ha una dimensione naturalmente diciamo in grado di far scorrere liberamente tendini e nervi ecco che dopo la gravidanza quel canale si stringe e magari il legamento che è proprio quello del polso si spessisce. E quindi il compito del chirurgo della mano di fatto è di fare in modo che questo legamento non stringa più quindi lo si taglia, lo si apre. Lo si taglia chiaramente con la massima attenzione. Sono curioso perché io da chirurgo plastico una delle poche cose che ho mai fatto nella mia vita è un tunnel carpale. Non sapere da quante cominciare. Allora ti insegno. Esatto. Quindi mi piace sentirlo raccontare da te. Quindi riaprirlo quello lì. Va aperto, viene fatto attraverso varie metodiche. Un tempo si facevano incisioni lunghe che per ora si donano in cicatrici fastidiose, dolorose. Adesso sono dei mini eccessi fatti diciamo chirurgicamente ad hoc, mirati proprio. Mirati e quindi piccole incisioni sulla cute e invece un lavoro più esteso all'interno proprio per mantenere la cute integra e eliminare i rischi di dolore. Di fatto il concetto è quello di decomprimere il nervo mediano che è quello che da tutti i formicoli di notte addirittura finiscono di dormire e il paziente soprattutto nelle fasi più avanzate. Il dito a scatto che invece questo è un nome curioso che tutti si pensieriscono a cos'è? Il dito a scatto è una tendinite delle dita. Le dita ovviamente nella parte dei flessori, dei tendini di flessori le dita durante la vita si muovono costantemente, perennemente si creano delle tendiniti, delle tendiniti non importanti ma abitualmente non importanti ma che continuano e in pratica questi tendini che corrono dentro ai canali, alle pulegge ecco creano un attrito con le pareti e piano piano si crea una sorta di strettoia quindi o il tendine aumenta di volume in un punto, viene un nodulo oppure la parete stessa si stringe. per cui il dito a un certo punto quando cerca di piegare o restringere sente uno scatto e da qui il nome che... Dito a scatto. Luca ma quali sono le possibilità di... come fa uno di noi a difendersi da questo tipo di patologia? io non vorrei avere tunnel carpali, non vorrei avere dita a scatto c'è qualche sistema che mi permette in qualche modo di... esiste qualche ginnastica speciale, qualcosa che devo mangiare sai a me che le ricerche sono... allora la domanda è assolutamente ottima per il tunnel carpali direi che c'è poco da fare c'è poco da fare perché c'è una causa tutto sommato precisa per le tendiniti lo stretching delle dita sicuramente è la prima terapia che i fisioterapisti della mano fanno fare quindi con pallina in mano a fare cose... soprattutto lo stretching in estensione in estensione per cercare di tendere questi residui cicatriziali c'è Luca una componente genetica di queste cose qua come per esempio il dupuitren di cui si diceva che più facilmente uno che avesse avuto papà o nonno con dupuitren magari lo fa anche lui oppure poca? poca direi è più abitudine di vita? è più tipo di vita, ripetitività di certi movimenti anche piccoli come sono le tendiniti in persone che sono molto al computer o cose di questo tipo ecco non necessariamente c'è un evento traumatico importante dove invece per l'artrosi può esserci e invece adesso approfitto della tua presenza per farti una domanda che mi incuriosisce sempre anche se siamo molto lontani dal trapianto di mano parlando di sindome dolorose, tunnel carpale, dito a scatto ma invece il trapianto della mano nel mondo come sta procedendo questa storia Luca? ci sono stati dei passi avanti? ci sono stati dei grandi passi avanti sicuramente ormai c'è un numero di persone trapiantate direi considerevole quindi c'è stata una fase che possiamo definire la pionieristica dove si è cominciato diciamo con i mezzi che c'erano con le conoscenze che c'erano soprattutto dal punto di vista immunologico dal punto di vista del rigetto e dal punto di vista del rigetto adesso sono controllati meglio adesso sono controllati sicuramente meglio e soprattutto è controllato il tipo di paziente che può essere sottoposto a questo e il numero di pazienti quindi man mano sono cresciuti eccetera sì, sotto controllo stretto chiaramente beh sono buona notizia anche questa Luca è stato bello parlare con te di chirurgia della mano altro argomento enorme di cui certamente abbiamo bisogno in prossime puntate grazie Luca per essere venuto e l'ospite a seguire il professor Vajenti invece è il grande amico Fulvio Collovati campione del mondo dell'82 il famoso tecnico e giornalista sportivo e commentatore con quale parleremo degli azzurri dell'82 e della bellezza della squadra e nell'ospettare Fulvio dare il mio servizio grazie grazie Marco Senso di appartenenza condivisione rispetto delle regole e ovviamente lo stesso obiettivo vincere la squadra qualsiasi squadra anche oltre lo sport è un gruppo costituito da singoli uniti da un patto comune e guidati da una o più figure che ne indirizzano e ne regolano le azioni oltre le definizioni un mix di individui tanto più efficiente quanto più ognuno è messo in condizioni di esprimere se stesso e le proprie abilità senza rivalità e senza protagonismi nello sport oltre ai singoli atleti costituiscono la squadra allenatori commissari tecnici preparatori atletici e ovviamente medici la vittoria quando arriva ed è mondiale come per la nostra nazionale di calcio nel 1982 è di tutti nessuno escluso Fulvio Colovatti non ha bisogno di grandi presentazioni è un dirigente sportivo un commentatore televisivo e un grande ex calciatore italiano nel ruolo difensore ha giocato nel Milan purtroppo ma anche per noi dell'Inter ma soprattutto è stato campione del mondo con la nazionale italiana nell'82 non è di tutti e non è per tutti i giorni avere ospite è un campione del mondo ciao Fulvio grazie innanzitutto dell'invito ti ringrazio dell'invito benvenuto la medicina top grazie cos'era la bellezza della squadra Fulvio nell'82 il concetto di fare squadra perché scusami se ti rubo tre secondi ma l'82 sicuramente viene ricordato anche come il mondiale di Pablito ma il mondiale della squadra soprattutto quella è stata la nazionale soprattutto vincente perché poi chiaramente ha vinto il mondiale però è stata ricordata soprattutto per lo spirito di gruppo è vero è verissimo per la ma guarda innanzitutto le battaglie che abbiamo vinto il silenzio stampa il la protezione che abbiamo avuto da parte dell'allenatore tiene presente che l'allenatore che era Enzo Berzotto lo sai è stato osteggiato noi siamo andati a quel mondiale praticamente sembravamo un'armata Brancaleone dovevamo tornare a casa subito quasi dopo la prima partita invece ci siamo compattati abbiamo fatto gruppo quella è una squadra di giocatori di grande personalità perché non è che fai gruppo Fulvio vuol dire che tu devi essere necessariamente stramico di tutti o basta comunque avere no devi stimare esatto devi fidarti devi sapere che l'uomo che è di fianco a te devi fidarti guarda io non sono uno psicologo però ho vissuto questa realtà e ti dico come ci siamo comportati ti devi fidare della persona che è a fianco devi avere stima la devi ammirare devi poterla anche aiutare nei momenti di difficoltà e quella era una squadra che si comportava in questo modo io ho avuto 21 splendidi compagni di squadra perché eravamo i 22 poi non tutti era difficile Fulvio identificare i leader perché i leader eravati in tantissimi i leader ognuno era leader ognuno era leader esatto a sprazzi giocavo nel Milan allora per cui ero leader del Milan perché ero capitato del Milan allora poi c'erano tanti giocatori tu lo sai dell'Inter dalle Royale a Marini a Bergomi così che erano altrettanto leader nell'Inter per non parlare di 7 giocatori della Juventus che erano tutti leader a cominciare dal povero Caterno Scirea certo a Cabrini a Tarotelli tutti i leader ognuno era leader cioè questo per farti capire che quando parli di gruppo devi avere disponibilità socialità personalità qualità rispetto rispetto reciproco e soprattutto sei cresciuto con determinate regole perché alla fine Fulvio a quel livello lì se vuoi giocare a campionato del mondo soprattutto dall'eliminatorio in avanti sono forti tutti quindi alla fine vince la squadra che è più squadra perché non è che incontri i brocchi o quelli che non sono capaci incontri della gente che almeno è forte come te tu guarda il recente mondiale è stato così ha vinto la squadra probabilmente la argentina era la squadra più forte perché aveva uno dei giocatori più forti che aveva messi però tieni presente che la prima partita l'aveva persa contro l'Abbiosaudita poi ha fatto gruppo si è ricompattato quindi la solita cosa della bellezza della squadra che è giusto che sappia i nostri amici a casa no i nostri amici a casa devono sapere che il calcio nel caso specifico è uno sport di gruppo per cui bisogna convivere sai quanti ritiri abbiamo fatti insieme ci sono anche delle conflittualità certo ci sono anche delle conflittualità e che rapporto avevi con i medici allora Fulvio? allora il medico io avevo un rapporto ma tutti tutti abbiamo cioè il medico era il fratello maggiore era il nostro fratello maggiore perché tu quando giochi fai una disciplina sportiva in caso specifico il calcio non puoi pensare di essere sempre perfetto certo a volte hai delle debolezze e a volte e ti dirò di più che ai miei tempi che non c'erano figure match analysis come ci sono nel calcio attuale il medico era tutto il medico occupava più spazi ancora faceva anche lo psicologo certo cioè ti confidavi se avevi chiaramente un dolore e lui ti curava però avevi anche ma magari ti dava tranquillità anche per i problemi a casa faccio per dire perché tu potevi avere ma ti dirò di più casa moglie figlio papà mamma assolutamente perché se tu una notte non avevi dormito perché magari il bambino piccolo è certo ritiro dicevi dottore gli dicevi dottore come posso fare no non ti preoccupare prendi questa magari ti dava la pastiglia per dormire oppure ti diceva no non ti preoccupare non hai bisogno di niente prendi una camomera ti rassicurava era una persona rassicurante e tieni presente che ai miei tempi il medico non era una persona fissa certo perché il calcio si è evoluto ora ci sono figure dove sono costantemente curate i calciatori sono 24 ore su 24 ore seguiti i tuoi colleghi ai miei tempi all'Inter al Milan così venivano 2-3 volte alla settimana però erano papà mi ricordo i tempi di Irene Moratti Quarenghi viveva a Piano Gentile ma poi Cipolla andava a Piano Gentile quante volte andava a Cipolla Cipolla l'ho avuto all'Inter Cipolla l'ho avuto all'Inter che era un nutrizionista un dietologo era una persona di grandissimo livello veniva lì ci diceva quello che dovevamo mangiare attenzione così poi dopo magari per una settimana non lo vedevi però erano figure come posso dire rassicuranti rassicuranti e poi Fulvio e la palestra invece l'attività in palestra allora rispetto a quella di adesso perché adesso hai quasi l'idea e soprattutto ci hanno anche i nostri amici a casa che quando c'è il giocatore infortunato a un momento si allena più degli altri perché passa in palestra delle ore per recuperare era così morboso anche il vostro rapporto con la palestra non esisteva la palestra Marco cioè la palestra esisteva ma come posso dire non era funzionale all'allenamento era una cosa che tu dovevi fare a livello personale ti spiego andavi lì c'erano i bilancieri non c'era non voglio fare pubblicità non c'erano i macchinari che c'erano che ci sono adesso adesso la prima cosa che fa l'allenatore se sei infortunato ti dice vai in palestra oppure finito di fare allenamento 10 minuti va in palestra io per quello che ti dico qua però ci sarebbe da parlare da parlare offonditamente magari mi inviterai un'altra volta certo ci sono tanti infortuni in più secondo me anche per questo perché i muscoli sono più gonfiati certo sono più sollecitati sì voi eravate per certi versi eravamo più magri eravate più veri se tu guardi il calciatore di adesso è più è molto più strutturato è più muscoloso più strutturato io vado a vedere delle foto così ero 70 kg però Fulvio se c'è il cross adesso saltano i centrali di adesso tanto quanto saltavi te e ti staccavi un metro da terra e andai a prendere la terra c'erano degli elementi specifici anche allora se uno era dotato aveva l'elasticità questa è una famosa foto questa è la foto famosa esatto cioè ma tu vedi anche questo è vero che beh lui era un presidente speciale però anche gli altri erano tutti personaggi speciali è entrato dentro uno spogliatoio a festeggiare insieme a noi allora tu dimmi qual è un presidente della repubblica cioè ma erano tempi come posso io non ricordare quel periodo lì è stato il periodo più bello della mia vita perché c'erano delle persone che avevano il rispetto dei valori e dimenticabile per tutti devo dirti che ogni mondiale ti porta l'allegria di un mondiale nuovo però ti riporta col pensiero mondiale ti dirò di più il giorno dopo qui siamo atterrati a Roma siamo andati al Quirinale a mangiare con lui passava tra i tavoli sembrava il cameriere passava tra i tavoli e gli diceva ma vedi di mangiare ma tutti grandi sono persone vedi di mangiare eh perché ti vedo magro ma tutti grandi sono persone semplici e modeste è stata una esperienza straordinaria io vorrei vorrei da te ancora due parole Fulvio riguardanti lo sport di squadra io devo parlare dieci secondi personalmente di me penso di dovere buona parte dei micro successi che ho avuto nella mia vita anche come leader di gruppo dovuti al fatto che ho giocato a pallacanestro e sono sempre stato parte di una squadra certo questo mi ha insegnato che la squadra è la squadra quella che vince certo e anche a dimenticare e a passare sopra il fatto che magari quella serata lì non ero stato migliore io ed era stata la serata di un altro perché è una rotazione quindi mi piacerebbe che tu dicessi ai nostri amici a casa quanto per i loro figli uno sport di squadra tu lo ritieni formativo no lo ritieno formativo perché io ho avuto la fortuna di giocare contro Maradona contro Platini chiaramente non Messi e Cristiano Ronaldo ma non vince il singolo vince la squadra vince la squadra perché perché e soprattutto vince la qualità indubbiamente e quando quando si cresce con determinati valori cioè il rispetto delle regole io sono cresciuto tu lo sai da buon interista da piano gentile sono cresciuto a Milanello con determinati valori il rispetto delle regole se si rispetta le regole si cresce è una buona parte di crescita positiva ecco per cui invito i ragazzi magari proprio in questo periodo esatto no perché poi a fare lo sport di gruppo significa anche socializzare assolutamente socializzare stare insieme a fare una vita sana a fare una vita sana per cui invito tutti i ragazzi che ci ascoltano a qualsiasi spot poi detto da te non è detto che bisogna fare il caso detto da te ne faranno tutti tesoro no si può fare anche le rebbe si può fare la pallavola il basket è stata la prima volta che abbiamo avuto un campione del mondo ma ne è valsa la pena quindi ringraziando grazie a te cercheremo di avere nell'ambito dei suoi impegni ospite qualche altra volta termina qui la puntata di oggi di medicina top è stata una puntata interessante spero che anche i nostri amici a casa l'abbiano apprezzata un saluto a tutti da Marco Klinger appuntamento alla prossima ciao 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 ciao